Immagina un servizio in grado di connettere i tuoi clienti ad internet solo quando serve, anche in vacanza, anche solo per un weekend. Il servizio Team Wholesale Flexible Line ti permette, al costo di una ricarica, di attivare l'accesso a internet per il solo tempo necessario, con la qualità della rete fissa e fino a 200 Mbps. Perché non è una vera vacanza senza internet? Scegli la convenienza senza compromettere l'ultra velocità, grazie a Team Wholesale Flexible Line. Grazie a tutti.